benvenuta o benvenuto sul canale bagni di gong asti anima che ricorda trova un posto tranquillo e distenditi comodamente ciò che ti serve sono un cuscino per appoggiare il capo un cuscino da tenere sotto le ginocchia in modo da rimanere distesa senza sentire tensione alla schiena e se hai freddo una copertina inizia il bagno di gong in questa posizione ma ricorda che potrai cambiarla quando vorrai una volta sistemata chiudi gli occhi e comincia a respirare in modo tranquillo e regolare quando inaspiri in te entra energia e quando ispiri tu lasci andare qualcosa che non ti serve più inaspiro inaspiro aspiro espiro inaspiro inaspiro e spiro Pensa ora all'intento da esprimere per questo bagno sonoro, e poi, quando sentirai le tre campanelle, lascialo andare nell'Ether e non pensarci più. Inaspiro, espiro, inaspiro, inaspiro. Grazie a tutti. 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 a tutti.